A-S-M-L-S A-S-M-R, Sara Allora, prima di iniziare il video sto registrando con il nuovo microfono, il Rode NDUSB Il fatto è che, una premessa faccio prima, io sento in cuffia dei rumori tipo di disturbo, tipo dei soffi, tipo vento E in realtà non c'è vento in casa mia Quindi se qualcuno sa del perché di questi rumori, magari me lo fa sapere qui sotto nei commenti Ho provato di tutto, a collegarlo al telefono, a collegarlo al computer, a staccare il cavo, a ricollegare, a staccare le cuffie E a cambiare un po' le impostazioni, anche se non ce ne sono molte Però non riesco a capire cosa abbia di male C'è un microfono un po' forse un po' troppo complicato e un po' forse mi sto anche pentendo Però spero che questa cosa si risolva presto E voi fatemi sapere se avete dei consigli su questo microfono E del perché del soffio di rumore di sottofondo disturbato Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video ASMR Come state? Io spero, come sempre, tutto, tutto, tutto Molto, 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 molto bene Io sto abbastanza bene Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo Oggi andremo a fare un video veramente, veramente, molto, molto cioccolatoso Perché andrò a provare delle tavolette di cioccolata E vorrei tanto incentrarla sui suoni Quindi, diciamo, forse non parlerò molto Allora Le tavolette in questione due l'ho già aperte perché non ci ho mangiato Però le altre, quelle che hanno vinto sul mio sondaggio Instagram Quindi se non mi segui su Instagram male Fammi subito a seguire perché le faccio sondaggi Vi dico quando ascoltano i nuovi video O condivido un po' quello che faccio, eccetera Quindi se volete andarmi a seguire Vi lascio tutto giù nelle info E se il video ti piace Ricordati di mettere un like E commentare Perché a me il documento va sempre veramente, veramente Molto, 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 molto piacere Allora Quelle che hanno vinto il sondaggio Sono questa litte Cioccolato vera Questa l'ho assaggiata solo una volta in epidemia Un anno e un mezzo fa E questa invece non ho mai assaggiata Mantorle e nocciole della nuova linea Sono veramente, veramente, veramente molto belle Per il pack E quindi hanno le cosine Insomma, i riconfiamenti del prodotto Delle mantorle e delle nocciole No, delle mantorle e dell'arancia Poi le altre due che ho già mangiato Questa qui Lamponi e nocciole E forse potremmo magari andarla a mangiare di nuovo E questa che ho praticamente finito Al caramello salato Non mi rimane questo rivasuglio Allora Io andrei proprio ad aprirle tutte E a farvele vedere Il mio sogno è proprio prendere a morsi Una stecca di cioccolato intera E oggi è l'ecito Questa è un altro scatolo Appunto questo qua è 70 cacau Ora Orangio Orangio Andiamo ora ad aprire Ah, mio Dio Che bello Allora, 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 allora Sentirete il rumore degli uccellini E dei miei termosifoni Ma fa veramente, veramente freddo Allora, allora Potete capire l'odore Allora, guardate qua L'altro pezzo sta dentro La confezione L'assaggiamo Togliamo di potenza Svegli . 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 io solo mangio il cioccolato veramente, veramente, veramente buona allora, prima che me la finisco tutta perché alzate la mano nei commenti con la pagina, con la mano alzata se anche voi se avete la cioccolata vicino ve la finite io sono un macello, cioè io ho tutte queste parrette le avrei portate fino a chiare solamente che con un po' di coscienza ho detto no, Sara te l'avevo regalata e fa il video e comunque grazie mille a te, appunto, che me la regalate vi ringrazio veramente, veramente tanto e già ti ho ringraziato veramente, ragazzi, io sono un sacco, un sacco non lo so, veramente, io mi metto a piangere ora, vabbè grazie mille allora, prima di farvi vedere quella lavera assaggiamo un peccettino di questa al caravaggio al sale un peccettino perché l'ho già mangiata non ci sono Sì, sì, sì. mamma mia buonissima mette un sacco di sede però la cioccolata qua mi sono preparato il mio tè e ora facciremo anche con voi queste lampone per poi aprire quella di pere è bellissimo io certe volte la cioccolata me ne so un po' nel tè lo so che fa schifo però io sono di infuso tipo così guardate mamma mia allora io mi spargo tutta ciao alconi mi dicono Cioè allora in realtà Non so questo video Quanti commenti Non carini potrà ricevere Perché sono sicura che Alcune persone diranno Mamma di tutta questa cioccolata E mi addirittura ingrassi No Io non ingrasso Cioè che Il mio super metabolismo ancora mi sostiene Abbiamo questo Mi sembra che Questa è quella della linda Normale Sono un sacco curioso E non mangiarlo Vediamo un po' Oddio La salsa di cioccolato Kinder Assaggiamo E ragazzi Le altre non sono niente Rispetto a questo È la mia preferita Mamma mia Mi sembra È la mia soretta Mamma mia Una Cutta Accadone Un chiave Un chiave Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! E io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi quale avete provato, allora le più buone secondo me sono questa alla pera e questa qua di mantorle, però pure caramella al sale è buonissima, con le lamponi pure, oddio no! Non lo so se dovessi scegliere o una scegliere questa alla pera, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, buonanotte ragazzi, buonanotte! Buonanotte, 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 buonanotte!